Quindi vogliamo calcolare A unito B, A intersecato B, A meno B e B meno A tenendo conto che l'insieme A è l'insieme degli elementi 1, A e B mentre invece l'insieme B è formato da 1, B piccola e 7 Risoluzione A unito B è fatto dagli elementi che stanno o in A o in B quindi da 1, da A, da B, da P e da 7 A intersecato B è fatto dagli elementi che stanno sia in A sia in B l'unico elemento è dunque 1 quindi A intersecato B ha come unico elemento 1 A meno B è fatto dagli elementi che stanno in A ma non stanno in B quindi soltanto A e P fanno parte a questo insieme B meno A, gli elementi che stanno in B ma non stanno in A quindi soltanto B e 7 e quindi soltanto B